Ragazzi, oggi speciale puntata Game of Thrones. Come suonano i Jackson 1? Come suonano i Jackson 1? Però dovremmo smettere di mettere su dei cd. Tutto sommato suonano un po' bene i Jackson 1, devo dirlo. Cari amici, Jackson 1 a Villa Franca, incredibile, sembra di stare nel medioevo. E guardate, infatti qui c'è il mostro. Ecco la nostra location, ma soprattutto siamo qua per girare il nuovo episodio di Game of Thrones e E guardate, abbiamo anche il drago. Avete mai fatto un giro sul palco della vostra band preferita? Allora ve lo faccio fare io. Questa è la nostra astronave dalla quale uscirà il nostro Michael Jackson. Questa è la postazione basso a chitarra. Qui c'è la drums e la postazione comando di Ricky Roma. E guardatelo, nella sua semplicità, è lui quello che canta... Ma il nostro concerto è finito, la grandissima. in questa location pazzesca. E' stata una figata. Com'è andata Jackson? E' andata alla grande. Domani un altro giorno, un altro palco, un altro live. Villa Franca, francamente è stato uno spettacolo. Questa è la voce? Allora... Non, non, non. Allora... Mi al prossimo giorno. Ciao